ritenersi illecite. E' tornato al CAB con la sua quindicesima edizione, il progetto Vegetabilia, un giro per il mercato ortofrutticolo del centro agroalimentare organizzato per gli studenti delle scuole medie in collaborazione con l'Ausl che dal prossimo anno, grazie a FICO, vuole diventare un vero e proprio programma di educazione alimentare per le scuole italiane. Andiamo a vedere. In Italia un bambino su tre è sovrappeso o addirittura obeso e anche se a Bologna la percentuale si abbassa e riguarda solo un bimbo su quattro, il dato rimane preoccupante, anche perché chi ha questo problema in giovane età spesso se lo porta dietro anche da adulto e la soluzione è naturalmente una corretta alimentazione e una maggiore consapevolezza di quel che si mangia. E' per questo che Ausl, CAB e Fedagromercati ormai da 15 anni organizzano Vegetabilia, offrendo agli studenti delle scuole medie della provincia la possibilità di visitare il mercato del centro agroalimentare, il posto da cui transita la frutta e la verdura che poi arriverà sulle loro tavole. L'agricoltura è molto più sostenibile degli allevamenti e quindi anche l'impatto complessivo sul nostro pianeta è più accettabile. Poi altri discorsi che cerchiamo di portare avanti è il fatto di mangiare essenzialmente frutti di stagione perché costano meno e sono meno trattati e quindi anche come ricaduta secondaria sulla salute sicuramente rappresentano una positività maggiore. E dall'anno prossimo al CAB arriverà FICO, la fabbrica italiana contadina. La volontà è quindi quella di far crescere Vegetabilia coinvolgendo i ministeri dell'istruzione, dell'agricoltura e dell'ambiente in un progetto di educazione alimentare rivolto a tutti gli studenti d'Italia. Quando faremo l'accordo con i ministeri perché anche l'educazione alimentare diventi materia di studio, come era poi una volta l'economia domestica, quindi non scopriamo nulla di nuovo, diventa già un contenuto che si offre al parco. Quindi Vegetabilia continuerà intanto per il centro agroalimentare che non è che finisce con FICO ma si trasferisce soltanto di qualche metro e poi sarà a disposizione questa grande esperienza per educazione alimentare che si farà dentro il parco agroalimentare.